A pochi chilometri da Carmagnola, l'Abbazia di Casanova è un capolavoro di arte e storia, immerso nelle campagne al confine fra la città metropolitana di Torino e la provincia di Cuneo. Il complesso è un vero e proprio campionario di stili architettonici appartenenti ad epoche storiche diverse, a testimonianza del ruolo spirituale, sociale, politico ed economico che l'Abbazia assunse a partire dalla metà del XII secolo, quando l'ordine monacale cistercense volle dedicare il suo nuovo insediamento sulla via francigena all'assunzione di Maria Vergine e a San Michele di Casanova. Bonificando le campagne circostanti donate loro dai marchesi di Saluzzo, i monaci cistercensi, provenienti dalla badia ligure di Tiglieto, vollero che il monastero diventasse un esempio vivente e tangibile del ritorno all'austerità, alla regola di San Benedetto e al lavoro manuale. I cistercensi rimasero a Casanova sino al XVI secolo, spesso disputando con il potere politico sul diritto di nominare gli abati, il più illustre dei quali fu il principe Eugenio di Savoia, maresciallo d'Austria, eroe della battaglia di Torino del 1706. A causa di un incendio fra il 1743 e il 1753, il complesso fu totalmente demolito e venne ricostruito sulla base di un progetto di Giovanni Tommaso Prunotto, allievo di Filippo Juvarra. La soppressione del monastero fu decretata da Papa Pio VI il 3 aprile 1792. La chiesa abbaziale divenne parrocchia, il re Vittorio Amedeo III ebbe la facoltà di disporre liberamente dei beni dell'abbazia, divenuto un castello e un luogo di caccia di Casa Savoia. Dopo essere stato ceduto prima all'Opera Nazionale Combattenti e poi alle suore di Maria Ausiliatrice, nel 1999 il complesso è stato acquistato dall'Associazione di Volontariato Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione, fondata dal sacerdote dell'Ordine di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, Don Adriano Gennari. Per il rifacimento settegentesco della facciata, della chiesa principale del complesso, l'architetto monregalese Francesco Gallo adottò lo stile del tardo barocco piemontese. Gli affreschi della volta e delle pareti sono opera di Bartolomeo Guidobono, sulla volta campeggia la figura della Beata Vergine Assunta, ai margini le figure degli evangelisti e dei dottori della chiesa. Mentre sulla parete di sinistra una fresco raffigura a Medeoterzo di Savoia, mentre fonda l'abbazia di Hotcomb. Interessanti affreschi ornano anche la cripta dei monaci, visitabile su appuntamento e recentemente riscoperta sul lato absidale della chiesa. Grazie ai volontari dell'Associazione Amici dell'abbazia di Casanova, è possibile organizzare visite guidate per gruppi. Per Casanova avere un monumento così è di fondamentale importanza. Uno perché è stato per quando io ero piccolo, per noi tutti abitanti di Casanova è stato il punto d'incontro, si veniva messa e si viveva, diciamo che la vita sociale girava attorno all'abbazia, qua abbiamo la piazza con il centro d'incontro e quindi per noi è sempre stata la nostra seconda madre, l'abbazia. Sicuramente il rovescio della medaglia, essendo una struttura comunque molto bella e molto complicata, richiede manutenzioni continue e quindi vuol dire sforzi economici per poterla mantenere viva, per poterla mantenere sempre in un aspetto ideale e bello. È proprio quello che stiamo cercando di fare come amici dell'abbazia, cercare di promuoverla sempre di più, di farla conoscere anche agli altri in modo da poter farla apprezzare, facendo delle visite, raccogliendo dei fondi, da poterli utilizzare per restaurarla dove c'è bisogno e ce n'è un continuo bisogno comunque.